Questo programma è stato offerto da Sant'E Sant'Anna, infuso di tè. Squisito Cran Caramel, i classici budini Elac, fresco sorbetto, golosi craffen. Oggi sorbetto agli agrumi. Pasticceria di casa da Elac, con la qualità Elac. L'alito cattivo è un problema comune che è dovuto alla produzione nella bocca di maleodoranti gas sul fuori. Ora c'è un trattamento efficace, CB12. Elimina i gas sul fuori e dona un alito sicuro per 12 ore. CB12, solo in farmacia. Vuoi regalare alla tua pelle una sensazione di lusso e una rapida azione antietà? Prova Olaz Regenerist. La crema trattamento intensivo Trezone e il Super Siero donano una pelle visibilmente più tonica in soli 7 giorni, per risultati antietà rapidi ed efficaci. E contro l'invecchiamento prematuro causato dal sole, prova la nuova crema giorno pelle perfetta di Regenerist. La sua formula antietà con il più alto fattore di protezione solare di Olaz, SPF 30, protegge la pelle donandole un aspetto più giovane. Oggi con Ford risparmi sui consumi e anche sul prezzo. C-Max Turbo Diesel o GPL a 17.950 euro. Un'offerta senza confronti. E in più ad agosto risparmi anche sul finanziamento. Con anticipo zero e tasso 2,95. C'è un giorno, anzi c'è tutti i giorni, un bimbo che cresce. Va alla scoperta del mondo e non teme nulla tranne il bagnato. Perché con il bagnato il pannolino può diventare ingombrante e la vita sì che diventa dura. Ma dalla linea Pampers Progressi giunge l'unico pannolino con rete super assorbente che anche da bagnato mantiene la sua forma e resta sottile. Così è libero di muoversi, come se avesse una mutandina. Pampers Progressi. Nasce, cresce, corre. Ritorna il vero Fuori Tutto Unieuro con sconti fino al 50%. Come il TV Telefunken LED 32 pollici a 269,90 euro. O lo smartphone Android Samsung Galaxy S2 a 399 euro. Il Fuori Tutto è solo Unieuro. Solo con Premium. Scegli il calcio che vuoi. Hai la Serie A di Premium. Le grandi sfide di Serie B. Tutta la Champions League. Tutta l'Europa League. L'alta definizione. E con Premium Play puoi vedere la partita dove vuoi. Scegli tra pay-per-view, offerte di caricami o l'abbonamento per vedere tutte le partite a soli 24 euro al mese. Ottima scelta. Chiama subito l'199 309 309. Con Travel Collection viaggi sempre con la tua Juve. Tante borse per tutti gli usi. Firmate Juventus. In edicola la prima uscita. Travel Collection. Da Obby & Work. Se c'è gente, c'è gusto. Se c'è gusto, c'è Equilibrium di Aya. Con Equilibrium di Aya c'è tutto il gusto degli affettati e c'è un ridotto contenuto di grassi. E se c'è Aya, c'è gioia. Vivo fuori tutto il giorno e voglio sempre il fresco pulito della doccia. Metto intervallo sullo slip. Intervallo Velo, con le sue fibre super assorbenti, ti dà tutto il fresco pulito che vuoi. In metà spessore. Intervallo Velo. Il fresco pulito più confortevole che c'è. Con Bauli ogni mattina e una scoperta nuova, tanti croissant da assaporare. Ce n'è per tutti i gusti, Bauli Croissant. Croissant Bauli, tanti modi per dirsi buongiorno. Col tempo ho preso un chilo dopo l'altro, fino a non riconoscermi più. Poi ho detto basta. Ora mi muovo di più, mangio meglio. E con XLS Medical Liposinol, che cattura fino al 27% dei grassi ingeriti, perdo più peso rispetto alla sola dieta. È un dispositivo medico. Buona serata su Canale 5. Il Salone del Camper. Fiera del turismo Clean Air. 8-16 settembre, Fiere di Parma. Per te che hai il cuore rosso-nero, Milan Travel Collection. Una collezione di borse e accessori da viaggio firmati Milan. Milan Travel Collection, in edicola da Obian Work. Per ritrovare il gusto delle cose vere, ci siamo messi in viaggio. Abbiamo conosciuto gli allevatori. Che ogni giorno consegnano il latte fresco. In latteria soresina. E poi diventa gran soresina. Grana Padano, gran soresina. La verità è qui. Prova l'intensa combinazione di gelato, crema muo e una croccante copertura. In 139 calorie per barretta. Barrette gelato Mars. Il massimo delle sensazioni dal primo all'ultimo morso. Orologi classici meccanici. Una collezione originale, davvero esclusiva, di orologi da polso ispirati ai più famosi circuiti automobilistici. Orologi classici meccanici. Il primo modello Silverstone è già in edicola. Da Obian Work. Oggi con Ford risparmi sui consumi e anche sul prezzo. Fiesta Turbo Diesel o GPL a 10.950 euro. Un'offerta senza confronti. E in più ad agosto risparmi anche sul finanziamento. Con anticipo zero e tasso 2,95. Sono medicinali a base di ibuprofene che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Da Angelini. Se non te l'aspetti, è Comics. L'Andrea Doria era la nave più bella al mondo. Costruiscila in ogni dettaglio e riscopri tutto il fascino del leggendario transatlantico italiano. Prima uscita con dividi storico solo 99 centesimi. Se c'è gente, c'è gusto. Se c'è gusto, c'è Equilibrium di Aya. Con Equilibrium di Aya c'è tutto il gusto degli affettati e c'è un ridotto contenuto di grassi. E se c'è Aya? C'è gioia. C'è un giorno, anzi c'è tutti i giorni, un bimbo che cresce. Va alla scoperta del mondo e non teme nulla tranne il bagnato. Perché con il bagnato il pannolino può diventare ingombrante e la vita sì che diventa dura. Ma dalla linea Pampers Progressi giunge l'unico pannolino con rete super assorbente che anche da bagnato mantiene la sua forma e resta sottile. Così è libero di muoversi, come se avesse una mutandina. Pampers Progressi. Nasce, cresce, corre. Frisky XL senza zucchero. Cinque volte più grande, cinque volte più fresco. Cambia la tua idea di freschezza nel pratico Metal Box. Frisky XL senza zucchero. Cinque volte più grande, cinque volte più fresco. Con Travel Collection viaggi sempre con la tua Juve. Tante borse per tutti gli usi, firmate Juventus. In edicola la prima uscita. Travel Collection, da Obby & Work. C'è un tempo per riflettere. Un tempo per partire. Un tempo per vedere ed essere visti. Un tempo in cui l'adrenalina scorre. E vince la forza di vincere. Con Teo Mammucari. È tempo di record. Lo show dei record. A settembre, su Canale 5. Si contrapporranno due veri e propri eserciti. Una battaglia che affonda le sue radici nella storia dell'umanità. Vuoi venire a letto con me? Ma manco morto. Madre natura. Paolo Bonolis e Luca Laurenti Conducono Ciao Darwin, l'anello mancante. Domani alle 21.20 su Canale 5. Yukiko. Gioiello italiano. Fascino giapponese. Estetil Olinwanna. Il primo mascara 5 in 1. Estetil, da Pulfarma in farmacia. Ci sono campioni che si rialzano sempre. Passaggio Cassano. Ci sono tifosi che non smettono di credere. Mai. Magliarella, rete. Ci sono sfide che hanno sempre un sapore. C'è uno, due. Vabbigia, vabbigia. Ad una settimana dall'inizio del campionato, un test importante per Mila e Juventus. In diretta da San Siro, 22esimo trofeo Luigi Berlusconi. Domenico alle 21.00 sul Canale 5.00. Per ritrovare il gusto delle cose vere, ci siamo messi in viaggio. Abbiamo visto le macchie che vivono in questo piccolo territorio. E il loro latte diventa gran soresina. Un gran capolavoro. Grana Padano, gran soresina. La verità è qui. Macchine Movimento Terra. L'esclusiva collezione di splendidi modellini in metallo. Delle case più conosciute. Escavatori, ruspe, pale meccaniche, betoniere e camion. Macchine Movimento Terra. La prima uscita è già in edicola. Da Hobby & Work. Ritorna il vero fuori tutto un euro. Con sconti fino al 50%. Come il nuovo iPad 16 giga Wi-Fi con custodia un off a 449 euro. Una lavatrice Hotpoint Ariston a 7 chili a 289,90 euro. Il fuori tutto è solo un euro. Ho provato veramente tanti prodotti per le smagliature. E per questo ero così scettica a provare Bio Oil. Ora invece vorrei tanto averlo usato prima. E lo sto raccontando a tutti. Bio Oil. Miller presenta Fruit Passion. Ehi darling. Let's start jamming together. Con Miller la frutta la senti veramente. Nuovo Fruit Passion. Sopra una deliziosa veluta di frutta. Sotto la cremosità del bianco Miller. Fate l'amore con il sapore. Allora, posso farlo come voglio io? Dammi la precisione di Snyder. La regia di Pirlo. La grinta di Boateng. Voglio provarlo così. Ottimo mister. Solo con Premium scegli il calcio che vuoi. Pay per view, ricaricabile. O abbonamento per vedere tutta la Serie A delle squadre Premium. Tutta la Champions e l'Europa League. Dobbiamo creargli un digno avversario. Premium. Tutto il calcio che conta. Orologi di lusso. Pregiati orologi da tasca placcati in oro o argento. E la storia affascinante dell'alta orologeria. Prima uscita l'orologio Napoleone placcato argento. Solo 3,99 euro. Dolori muscolari? Puoi provare Momendol. Riduce i dolori da torcicollo, di schiena e articolari. Mentre combatte l'infiammazione. Sono medicinali a base di naprosene sodico che possono avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Da Angelini. Frisky XL senza zucchero. 5 volte più grande, 5 volte più fresco. Cambia la tua idea di freschezza. Nel pratico Metal Box. Frisky XL senza zucchero. 5 volte più grande, 5 volte più fresco. Ci prendiamo tutte cura del viso e meno del nostro collo. Ma spesso è il punto che tradisce di più l'età. Revitalift viso, contorni e collo dell'Oreal. In 4 settimane la sua azione ristrutturante ridefinisce i contorni del viso e ritende la pelle. Revitalift effetto lifting viso, contorni e collo dell'Oreal Paris. Se funziona sul collo, pensate sul viso. Barbie I can be. Una collezione unica di vestitini, accessori e bellissimi fascicoli per scoprire il mondo di Barbie. Veterinaria, ballerina, attrice. Mille modi di essere con Barbie. Barbie I can be. In edicola da Hobby & Work. Ha vinto l'edizione di amici nella categoria BIC. Alessandra Amoroso. Due amiche. Un affiatamento, un'amicizia, insomma così. Siete le due regine. Due volti della musica italiana. Un concerto qui all'Arena di Verona. Un solo imperdibile concerto. Hanno deciso di fare questo concerto insieme. A settembre il concerto del vincitore è su Canale 5. Sì! Un solo imperdibile concerto. By my side. Life is rosy. Duck Farm. Something to love. Seguici su Facebook. Estetil All in One. Il primo mascara 5 in 1. Estetil. Da Pulfarma in farmacia. I've got the power! Ma che cacchio stai a te? Riviviamo il fantastico mondo della scorsa stagione di Zelig condito con una spruzzata di inediti. Visti e mai visti. Venerdì alle 21.20, Canale 5. We've got the power! Per ritrovare il gusto delle cose vere. Ci siamo messi in viaggio. Abbiamo conosciuto gli allevatori. Che ogni giorno consegnano il latte fresco. In latteria soresina. E poi diventa gran soresina. Grana Padano gran soresina. La verità è qui. Ho iniziato a usare Bio Oil tutti i giorni su una cicatrice. E ora a meno che tu non sappia dove guardare, non riusciresti mai a vederla. Ora lo uso su tutto il mio corpo. La mia pelle è semplicemente splendida. Bio Oil. Miller presenta Fruit Passion. Ehi darling. Let's start jamming together. Con Miller la frutta la senti veramente. Nuovo Fruit Passion. Sopra una deliziosa velute di frutta. Sotto la cremosità del bianco Miller. Fate l'amore con il sapore. Animali selvaggi. Bellissime miniature 3D e tantissime curiosità. Ma lo sa quanto è lungo il coccodrillo? Scoprilo con Animali selvaggi. In edicola la prima uscita con fascicolo 3D, album e figurine. Da Obian Work. C'è un giorno, anzi c'è tutti i giorni, un bimbo che cresce. Va alla scoperta del mondo e non teme nulla tranne il bagnato. Perché con il bagnato il pannolino può diventare ingombrante e la vita sì che diventa dura. Ma dalla linea Pampers Progressi giunge l'unico pannolino con rete super assorbente. Che anche da bagnato mantiene la sua forma e resta sottile. Così è libero di muoversi, come se avesse una mutandina. Pampers Progressi. Nasce, cresce, corre. In fatto di cibo voglio il meglio anche per il mio gatto. Ecco perché scelgo gli ingredienti semplici della nostra tradizione. Con il nuovo Viscas Pranzetti Sapori di Casa. In pratica i porzioni da 50 grammi dà il gusto sempre fresco per offrirgli ancora più varietà. Nuovo Viscas Pranzetti Sapori di Casa. Su Premium tornano le stelle del grande calcio. I riflettori si accendono sulla Champions League. Juventus, Milan e Udinese iniziano la loro avventura. Tutte le partite dai preliminari alla finale di Wembley 2013. Ti aspettano su Premium dal 21 agosto. Non perdere tempo. Abbonati subito e assicurati tutto il grande calcio a 24 euro al mese. Premium. Tutto il calcio che conta. Col tempo ho preso un chilo dopo l'altro. Poi ho detto basta. Ora mi muovo di più, mangio meglio. Ed ho scelto XLS Medical. Liposinol cattura fino al 27% dei grassi ingeriti. Carboblocker blocca fino al 66% dei carboidrati. E da oggi Appetite Reducer controlla l'appetito e gli attacchi di fame. XLS Medical. Scegli tu come perdere peso. Zaini Invicta. Be outside. Vivo fuori tutto il giorno e voglio sempre il fresco pulito della doccia. Metto intervallo sullo slip. Intervallo velo con le sue fibre super assorbenti ti dà tutto il fresco pulito che vuoi. In metà spessore. Intervallo velo. Il fresco pulito più confortevole che c'è. Verruche? L'ha detto il medico? C'è Bartner. È semplice. Un'applicazione può risultare sufficiente per congelare la verruca alla radice. E addio verruca. Bartner in farmacia. Adesso tocca a te. Fammi. O con me o contro di me. Giudice. Siamo quello che rimane della tua famiglia. Non perderci. Così se mi credete morto, mi posso ammazzare meglio. Estetil all in one, il primo mascara 5 in 1. Estetil da Pulfarma in farmacia. Questa sarà la sua ultima settimana di lavoro. Taglia. Ma c'è una dignità nel mio modo di farlo. Taglia per lavoro. Li pugnali al petto invece che alle spalle. E nella vita. È semplice. Hai presente quando guardi qualcuno negli occhi e ti senti scrutare dentro l'anima? Sì. Ecco io no. Fino a quando? Ti sei costruito uno stile di vita che rende impossibile stabilire qualunque contatto umano. Il nostro mister zaino vuoto. Tra le nuvole. Prima TV Canale 5. Lunedì alle 21.20. Per ravvivare i mercati. Senza restringere i posti di lavoro. La buona pubblicità. La soluzione che fa bene all'economia. La tua Inter sempre con te. Inter in viaggio con i campioni. Bellissime borse e accessori firmati Inter. La prima uscita è già in edicola da Hobby & Work. Quando il sapore è arte, l'olio è extravergine Monini. Frisky XL senza zucchero. Cinque volte più grande, cinque volte più fresco. Cambia la tua idea di freschezza. Nel pratico Metal Box. Frisky XL senza zucchero. Cinque volte più grande, cinque volte più fresco. È in edicola Western. I film più belli del cinema Western moderno con grandi star come Russell Crowe, Brad Pitt, Sharon Stone, DiCaprio e molti altri. Western. Prima uscita a Palusa. Da Hobby & Work. Ai! Dolori muscolari? Puoi provare Momendol. Riduce i dolori da torcicollo, di schiena e articolari, mentre combatte l'infiammazione. Sono medicinali a base di naprossenesodico che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo da Angelini. Sono arrivati i nuovi Zaini 7. Player 7. Il suo obiettivo non è il furto, ma la sfida. Panorama presenta Diabolico, gli anni della gloria. A colori, scopri le nuove straordinarie avventure del re del terrore in formato da collezione. Diabolico. In edicola il secondo volume. Altri due giri e sto in paradiso. Com'è? 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 E' com'è? E' buono, è la mazza. Certo, è qualità rossa, è sempre buono. Pensa che questo è lo stesso caffè che bevevo quando ero ragazza. Lo stesso, si sarà affreddato. Ma che ne sai? Mi fa tornare la mente certi ricordi. Eh no, è buona, coprili. Lo sai che in paradiso i ricordi si vedono tutti? Ma che sei stata pure con Mariuccio, mio compagno de banco? Un bacetto. Un bacetto? Se ti vedesse papà. Magicland, il nuovo grande parco divertimenti di Roma Valmontone. Solo con premium. Scegli il calcio che vuoi. Hai la serie A di premium, le grandi sfide di serie B, tutta la Champions League, tutta l'Europa League, l'alta definizione. E con premium play puoi vedere la partita dove vuoi. Scegli tra pay-per-view, offerte di caricabili o l'avvolamento per vedere tutte le partite a soli 24 euro al mese. Ottima scelta. Chiama subito l'199 309 309. Animali selvaggi, bellissime miniature 3D e tantissime curiosità. Ma lo sa quanto è lungo il coccodrillo? Scoprilo con Animali Selvaggi. In edicola la prima uscita con fascicolo 3D, album e figurine. Da Hobby & Work. Ritorna il vero fuori tutto 1 euro, con sconti fino al 50%, come il TV Telefunken LED 32 pollici a 269,90 euro. O lo smartphone Android Samsung Galaxy S2 a 399 euro. Il fuori tutto è solo 1 euro. Una voce straordinaria. Canzoni che rimarranno per sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo ricordare così. Ciao Whitney. Guardia del Corpo. Domenica 26 agosto su Canale 5. Buon proseguimento di serata su Canale 5. Il Salone del Camper. Fiera del turismo plein air. 8-16 settembre. Fiere di Parma. Questo programma è offerto da Immobile Dream. Non vende sogni, ma solide realtà. Estetil All in One. Il primo mascara 5 in 1. Estetil. Da Pulfarma in farmacia. Ciao Rosy. Cosa ci fa quella lì? Una mafiosa. Eppure una delle maggiori. Non è più una mafiosa. La tua Inter sempre con te. Inter in viaggio con i campioni. Bellissime borse e accessori firmati Inter. La prima uscita è già in edicola. Da Obion Work. Ritorna il vero fuori tutto un euro con sconti fino al 50%. Come il nuovo iPad 16 giga wifi con custodia un off a 449 euro. Una lavatrice Hotpoint Ariston a 7 kg a 289,90 euro. Il fuori tutto è solo un euro. Dolori muscolari? Puoi provare Momendol. Riduci i dolori da torcicollo, di schiena e articolari. Mentre combatte l'infiammazione. Sono medicinali a base di naprosenesodico che possono avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo da Angelini. Quando eri incinta di 5 mesi ho iniziato a usare Bio Oil sulle smagliature. Devo proprio dire che se l'avessi saputo prima l'avrei utilizzato da subito. I risultati sono stati davvero sorprendenti. Bio Oil. Sicilia. 365 giorni all'anno. Storie per diventare grandi. L'alfabeto, i numeri, i colori. Una fantastica collezione di libri e giochi per imparare divertendosi. Primo libro, sticker e due carte del memo alfabeto solo 99 centesimi. Acqua San Benedetto ti dedica il suo tè. Sano, leggero, unico, come sei te. Tè verde San Benedetto, unico come te. Partecipa a Baby Vedi Vinci. In palio più di 700 premi e una Mitsubishi ASX. Non occorre sciacquarsi tutto il giorno per avere un alito più fresco. Il nuovo imbattibile Colgate Plax. Rimuove efficacemente i batteri. Offrendoti 12 ore di protezione per un alito più fresco. Nuovo Colgate Plax. Protezione imbattibile per un alito più fresco. Ora senza alcol. Se c'è gente, c'è gusto. Se c'è gusto, c'è equilibrimo di Aya. Con equilibrimo di Aya c'è tutto il gusto degli affettati e c'è un ridotto contenuto di grassi. E se c'è Aya? C'è gioia. Questo è il San Paolo. L'amichevole più calda. È davvero magica la cornice, l'atmosfera, la scenografia. Un match d'eccezione. In diretta dal San Paolo. Capitan Cannavaro lancia la sfida ai campioni di Grecia. Ed è ancora calcio spettacolo. Ci sono le aspettative di una stagione magica. Napoli-Olimpiakos. Domenica alle 21 su Premium. Acquista la partita a 10 euro. Info su mediasetpremium.it Signore e signori, il più grande circo d'Europa presenta la nostra nuovissima attrazione. Circo afro, circo afro. Con i qua, con i qua, con i qua, afro. Sicuro? Madagascar 3, ricercati in Europa. Frisky XL senza zucchero. Cinque volte più grande, cinque volte più fresco. Cambia la tua idea di freschezza. Nel pratico Metal Box. Frisky XL senza zucchero. Cinque volte più grande, cinque volte più fresco. Il suo obiettivo non è il furto, ma la sfida. Panorama presenta Diabolic. Gli anni della gloria. A colori. Scopri le nuove straordinarie avventure del re del terrore informato da collezione. Diabolic. In edicola il secondo volume. Col tempo ho preso un chilo dopo l'altro, fino a non riconoscermi più. Poi ho detto basta. Ora mi muovo di più, mangio meglio. E con XLS Medical Liposinol, che cattura fino al 27% dei grassi ingeriti, perdo più peso rispetto alla sola dieta. È un dispositivo medico. Allora, posso farlo come voglio io? Dammi la precisione di Snyder. La regia di Pirlo. La grinta di Boateng. Voglio provarlo così. Ottimo mister. Solo con Premium scegli il calcio che vuoi. Pay per view, ricaricabile. O abbonamento per vedere tutta la Serie A delle squadre Premium, tutta la Champions e l'Europa Liga. Dobbiamo creargli un digno avversario. Premium. Tutto il calcio che conta. Ho fatto una bellissima vacanza, piena di gente, senza un posto per dormire e per fortuna ho speso un sacco. Ma perché non sei andato in camper? La vacanza migliore ad un prezzo inferiore. Ah, bravo. E poi io dove dormo? Beh, in camper ci sono tutti i confort. In camper ci sono tutti i confort fino a sei posti letto. Più che a casa mia. Aria condizionata e TV satellitare. Nel mio albergo non c'erano. Angolo cottura accessoriato e servizi con doccia ed acqua calda. Sembra la mia casa, portatile. In camper ho fatto bellissime vacanze ed è comodissimo per il lavoro. Pensa che un camper nuovo di primo livello può costare come una vettura di media cilindrada, ma paga, bollo ed assicurazione come un'utilitaria. Ma in camper posso portarmi anche il mio cane, sai? Sì, il camper è la soluzione ideale per le vacanze e si svaluta pochissimo. Pensa a quanto può risparmiare una famiglia di quattro persone. Certo, Geni, andiamo a Parma al salone del camper. Però Andrea, lui do io. No, tu no. Allora, tu guidi e io cambio le marce. Da Neutromed. Il nuovo detergente intimo delicatezza suprema. Io mi fido di Neutromed. Grazie, grazie. Si contrapporranno due veri e propri eserciti. Una battaglia che affonda le sue radici nella storia dell'umanità. No, vuoi venire a letto con me? Ma manco morto. Madre natura. Paolo Bonolis e Luca Laurenti Conducono Ciao Darwin, l'anello mancante. Domani alle 21.20 su Canale 5. Contenta? Certo! Io NG Direct mi dà un conto corrente a zero canone. E adesso anche le filiali. È la mia banca ideale. Online o in filiale. Apri conto corrente aranci. Per te zero canone, visa oro e prelie di Bancomat gratuiti. Altri due giri e sto in paradiso. Com'è? Com'è, com'è? E com'è? È buono, è la pazza. Certo, è qualità rossa, è sempre buono. Pensa che questo è lo stesso caffè che bevevo quando ero ragazza. Lo stesso, se sarà affreddato. Ma che ne sai? Mi fa tornare alla mente certi ricordi. Eh no, è buona. Eh, coprili. Lo sai che in paradiso i ricordi si vedono tutti? Ma che sei stata pure con Mariuccio, mio compagno di banco? Un bacetto. Un bacetto? Se ti vedesse papà. Peplum, Ercole, maciste, giganti e gladiatori. In un'unica collezione il meglio del cinema mitologico italiano. Peplum, prima uscita il trionfo di Ercole. Da Hobby & Work. Grazie ad Imea Silhouette controllo il peso in modo naturale, le vampate di calore e l'irritabilità. Imea Silhouette conosce il mio corpo. E si vede. Imea Silhouette in farmacia. Oggi i confort risparmi sui consumi e anche sul prezzo. Fiesta Turbo Diesel o GPL a 10.950 euro. Un'offerta senza confronti. E in più ad agosto risparmi anche sul finanziamento. Con anticipo 0 e tasso 2.95. Con Travel Collection viaggi sempre con la tua Juve. Tante borse per tutti gli usi. Firmate Juventus. In edicola la prima uscita. Travel Collection. Da Hobby & Work. Magikland, il nuovo grande parco divertimenti di Roma Valmontone. Sconto di 5 euro per te inserendo il codice Magikland sul sito magicland.it Su Premium tornano le stelle del grande calcio. I riflettori si accendono sulla Champions League. Juventus, Milan, De Udinese. Iniziano la loro avventura. Tutte le partite. Dai preliminari alla finale di Wembley 2013. Ti aspettano su Premium dal 21 agosto. Non perdere tempo. Abbonati subito e assicurati tutto il grande calcio. A 24 euro al mese. Premium. Tutto il calcio che conta. Frisky XL senza zucchero. 5 volte più grande, 5 volte più fresco. Cambia la tua idea di freschezza. Nel pratico Metal Box. Frisky XL senza zucchero. 5 volte più grande, 5 volte più fresco. È in edicola Western. I film più belli del cinema Western moderno con grandi star come Russell Crowe, Brad Pitt, Sharon Stone, DiCaprio e molti altri. Western. Prima uscita a Palusa. Da Hobby & Work. Ecco i migliori cereali Special K di sempre. Più gusto. Più nutrimento. Molto più piacere. Nuovi Special K. Tu cosa avrai di più? CB12 L'alito cattivo è un problema comune che è dovuto alla produzione nella bocca di maleodoranti gas sul fuori. È un trattamento efficace. CB12 Elimina i gas sul fuori e dona un alito sicuro per 12 ore. CB12 Solo in farmacia. Hai mai visto Winga TV? Winga TV compie un anno. Un anno di roulette. 8.000 ore di diretta. Al canale 63. 200 spin ogni sera. Un anno di vittorie. Più di 20.000 giocatori. Iscriviti e gioca su winga.it. Con i croupier in diretta tutte le sere. Al canale 63. Entra in gioco anche tu con Winga TV. Acqua San Benedetto ti dedica il suo tè. Fresco, leggero e con un gusto unico. Tè San Benedetto. Unico come tè. Partecipa a Bevi Vedi Vinci. In palio più di 700 premi e una Mitsubishi ASX. La tua Inter sempre con te. Inter in viaggio con i campioni. Bellissime borse e accessori firmati Inter. La prima uscita è già in edicola da Hobby & Work. Ma che sei pazza? Stammi più lontano che puoi. Io e te proprio due universi a parte, eh? Penso che non saprò mai veramente chi sei. Altezza. Non è che quel Marco Cesaroni si sta innamorando di te? I Cesaroni a settembre su Canale 5. Cerchi casa, nei nostri cantieri la troverai. Parola di Roberto Carlino. Ci sono ancora molti tentativi da fare prima di arrivare allo spegnimento degli impianti. Così il ministro Passera al termine del vertice sul caso Ilva. Il governatore della Puglia, Vendola. Il governo non farà ricorso contro la decisione del G. Per l'evasione fiscale siamo come in stato di guerra. Così il presidente del Consiglio, Mario Monti, in un'intervista alla rivista Tempi. L'Italia è in difficoltà a causa di questo fenomeno, ha aggiunto. Il premier parla anche di giustizia e annuncia numerose novità. Giornata positiva per i mercati. Si spreda 430 punti. Le tre bussi riot sono state condannate a due anni di reclusione ciascuna e la pena per le performance anti-Putine nella cattedrale di Mosca dello scorso febbraio. Unanimi le reazioni internazionali, il verdetto sproporzionato. La leader del gruppo, comunque abbiamo vinto noi e oggi è uscita una canzone inedita del trio punk con un nuovo attacco al Cremlino. Tatuaggi proibiti ai militari italiani, lo ha stabilito lo stato maggiore dell'esercito che ha dichiarato guerra, ha i disegni sulla pelle e nelle parti visibili del corpo e proibito del tutto quelli osceni razzisti. Stop categorico anche ai piercing. E' in onda TG Com 24, la nuova rete all news gratuita sul canale 51 e sul satellite. Se non la trovi, risintonizza il TV o il decoder. Ci sono campioni che si rialzano sempre. Ci sono tifosi che non smettono di credere, mai. Ci sono sfide che hanno sempre un sapore. Ad una settimana dall'inizio del campionato, un test importante per Milan e Juventus. In diretta da San Siro, 22esimo trofeo Luigi Berlusconi. Domenico alle 21 sul canale C. Per ritrovare il gusto delle cose vere, ci siamo messi in viaggio. Abbiamo visto le mucche che vivono in questo piccolo territorio. E il loro latte diventa gran soresina. Un gran capolavoro. Grana Padano, gran soresina. La verità è qui. Con Bauli ogni mattina E una scoperta nuova Tanti croissant da saporare Ce n'è per tutti i gusti Bauli croissant Croissant Bauli, tanti modi per dirsi buongiorno. La passione per la TV non va mai in vacanza. Vuoi divertirti con le sitcom di ieri e di oggi? Saperne di più sulle notizie più importanti? Seguire le fiction di maggior successo? Con Video Mediaset puoi, quando vuoi, videomediaset.it La TV, quando vuoi tu Ho provato veramente tanti prodotti per le smagliature E per questo ero così scettica a provare Bio Oil Ora invece vorrei tanto averlo usato prima E lo sto raccontando a tutti Bio Oil Allora, posso farlo come voglio io? Dammi la precisione di Snyder La regia di Pirlo La grinta di Boateng Voglio provarlo così Ottimo misterio Solo con Premium scegli il calcio che vuoi Pay per view, ricaricabile o abbonamento Per vedere tutta la Serie A delle squadre Premium Tutta la Champions e l'Europa League Dobbiamo creargli un degno versato Premium, tutto il calcio che conta La passione per la TV Non va mai in vacanza Vuoi divertirti con le sitcom di ieri e di oggi? Saperne di più sulle notizie più importanti? Seguire le fiction di maggior successo? Con Video Mediaset Puoi, quando vuoi Da Camera Caffè a Così Fan Tutte Da Studio Sport a Quinta Colonna Dai Cesaroni ai Tredicesimo Apostolo C'è sempre un programma per te Videomediaset.it La TV Quando vuoi tu P&G Fieri di sostenere tutte le mamme Hai mai visto Winga TV? Winga TV compie un anno Un anno di roulette 8.000 ore di diretta Al Canale 63 200 spin ogni sera Un anno di vittorie Più di 20.000 giocatori Iscriviti e gioca su winga.it Con i croupie in diretta tutte le sere Al Canale 63 Entra in gioco anche tu con Winga TV Ad agosto Baba Boy Se sopravviveranno al circo Potrebbero ritrovare la strada di casa Madagascar 3 Ricercati in Europa Al cinema Grazie ad Imea Silhouette Controllo il peso in modo naturale Le vampate di calore E l'irritabilità Imea Silhouette Conosce il mio corpo E si vede Da oggi Imea Multivitamine Specifico per donne dai 45 anni In omaggio con Imea Silhouette In farmacia I duelli del calciomercato Entrano nel vivo Trattative, futuro e firme dei calciatori Su sportmediaset.it Vivi il mercato da protagonista Anche su smartphone e tablet Sportmediaset.it La tua passione in tempo reale Edoardo, dove sei? Su canale 5 Da settembre L'appuntamento della domenica Con Mela Verde E' su canale 5 Bentornati a Navigare Informati Possiamo vivere il mare Sia navigando in superficie Che esplorando l'affascinante mondo sommerso Ma per praticare attività subacquea Occorre avere un'adeguata preparazione I gravi incidenti avvenuti di recente Ci fanno ribadire che il primo dovere Di chi pratica questa attività E' osservare le procedure di sicurezza E' importantissimo frequentare corsi specifici Conoscere i luoghi di immersione Controllare il funzionamento Della propria attrezzatura Essere in buona salute Mantenersi in ottima forma fisica E soprattutto non superare mai I propri limiti personali Sardegna, isola di Razzoli Il faro dell'isola numero 1000 Dell'elenco fare fanali Non è funzionante Naviene a tanti in transito Non prestino massima attenzione Salerno Si svolgeranno spettacoli pirotecnici Nel comune di Maiori Durante la manifestazione E' vietata la navigazione E' qualsiasi attività connessa Con l'uso del mare Ad una distanza inferiore Ai 200 metri Messina Lungo il litorale del Viale della Libertà Nello specchio acqueo Compreso tra i 200 e i 300 metri Dalla Vattigia Si svolgerà una processione A mare di barche E' vietata la palliazione La pesca e ogni altra attività Tutte le unità in transito Prestino la massima attenzione Siracusa con decorrenza immediata E fino all'intervento di monifica Di un presunto ordigno bellico Rinvenuto nell'area demaniale marittima Di Contrada Gallina E' interdento il transito Di veicoli e persone La palliazione Le immersioni subacquee La pesca e le altre attività Sardegna occidentale Il faro capo San Marco Numero 1390 Dell'elenco fare fanali Funziona con portata luminosa Ridotta e in modo irregolare Prestare massima attenzione Questa puntata E' disponibile sul sito Di navigare informati E sull'applicazione Dove potete trovare La raccolta video completa A cura della guardia costiera Su tutto ciò che è importante Sapere prima di affrontare Una giornata al mare Arrivederci al prossimo weekend Buongiorno a vostra altezza Buongiorno a vostra festa Buon compleanno a vostra altezza Già hai ragione Il mio compleanno Conoscerete la vostra futura sposa Oggi concedo mia figlia A vostro figlio Perché non posso trovarmi Una moglie da solo Ragazzi Io ho un segreto Mia marita sta nel braccio Della morte L'amore di gruppo Mi eccita Grazie a tutti Una ragazza davvero stupenda Ti va di ballare Salve Il principe cerca moglie Martedì alle 21.20 Su Canale 5 Se c'è Pietro C'è squadra Se c'è squadra C'è fuoco Se c'è fuoco C'è V di Aia Con V di Aia C'è tutto il gusto E la delicatezza Di bruster di qualità E se c'è Aia C'è gioia La tua Inter Sempre con te Inter in viaggio con i campioni Bellissime borse Accessori Firmati Inter La prima uscita è già in edicola Da Hobby & Work Per rinforzare lo smalto Delle aziende Per mantenere saldi I posti di lavoro La buona pubblicità La soluzione che fa bene All'economia I duelli del calciomercato Entrano nel vivo Trattative Futuro e firme Dei calciatori Su sportmediaset.it Vivi il mercato Da protagonista Anche su smartphone E tablet Sportmediaset.it La tua passione In tempo reale E in edicola Western I film più belli Del cinema Western moderno Con grandi star Come Russell Crowe Brad Pitt Sharon Stone Di Caprio E molti altri Western Prima uscita a Palusa Da Hobby & Work Col tempo Ho preso un chilo Dopo l'altro Fino a non riconoscermi più Poi ho detto basta Ora mi muovo di più Mangio meglio E con XLS Medical Liposinol Che cattura fino al 27% Dei grassi ingeriti Perdo più peso Rispetto alla sola dieta È un dispositivo medico Per ritrovare il gusto Delle cose vere Ci siamo messi in viaggio Abbiamo conosciuto Gli allevatori Che ogni giorno Consegnano il latte fresco In latteria Soresina E poi diventa Granzo Resina Grana Padano Granzo Resina La verità è qui Big Hunter Il catalogo della caccia 540 pagine Migliaia di articoli Per i tuoi acquisti diretti E se è pronto Mi schiaccio Eccomi Tutto nuovo È uscito Big Hunter Oh Allora tutta la caccia Via Big Hunter Cercatelo in edicola Allora Posso farlo come voglio io? Dammi la precisione di Snyder La regia di Pirlo La grinta di Boateng Voglio provarlo così Ottimo mister Solo con Premium Scegli il calcio che vuoi Pay per view Ricaricabile O abbonamento Per vedere tutta la serie A Delle squadre Premium Tutta la Champions E l'Europa League Dobbiamo creargli un degno versato Premium Tutto il calcio che conta Frisky XL senza zucchero 5 volte più grande 5 volte più fresco Cambia la tua idea di freschezza Nel pratico Metal Box Frisky XL senza zucchero 5 volte più grande 5 volte più fresco Per te che hai il cuore rosso nero Milan Travel Collection Una collezione di borse e accessori da viaggio Firmati Milan Milan Travel Collection In edicola da Obby & Work La passione per la TV Non va mai in vacanza Vuoi divertirti con le sitcom di ieri e di oggi? Saperne di più sulle notizie più importanti? Seguire le fiction di maggior successo? Con Video Mediaset Puoi quando vuoi Video Mediaset.it La TV Quando vuoi tu Gli specialisti tornano in azione Ris Roma 3 Prima assoluta a settembre Su Canale 5 Cerchi casa Nei nostri cantieri la troverai Parola di Roberto Carlino Che sta succedendo? California Faglia di San Andrea La scossa di assestamento? Non è assestamento! Big One Il giorno tanto temuto Sta arrivando Milioni di persone sono in pericolo Se si verifica questa rottura La costa della California potrebbe distaccarsi Si può fermare L'inevitabile 9.8 Magnitude 9 Per il ciclo alta tensione 10.5 Magnitudo 10.5 Mercoledì 21.20 Canale 5 Non occorre sciacquarsi tutto il giorno Per avere un alito più fresco Il nuovo imbattibile Colgate Plax Rimuove efficacemente i batteri Offrendoti 12 ore di protezione Per un alito più fresco Nuovo Colgate Plax Protezione imbattibile Per un alito più fresco Ora senza alcol Col tempo ho preso un chilo dopo l'altro Poi ho detto basta Ora mi muovo di più Mangio meglio Ed ho scelto XLS Medical Liposinol cattura fino al 27% dei grassi ingeriti Carboblocker blocca fino al 66% dei carboidrati E da oggi Appetite Reducer controlla l'appetito e gli attacchi di fame XLS Medical Scegli tu come perdere peso Il suo obiettivo non è il furto Ma la sfida Panorama presenta Diabolic Gli anni della gloria A colori Scopri le nuove straordinarie avventure del re del terrore Informato da collezione Diabolic In edicola il secondo volume Con Bauli ogni mattina E una scoperta nuova Tanti croissant da saporar Ce n'è per tutti i gusti Bauli croissant Croissant Bauli Tanti modi per dirsi buongiorno In fatto di cibo voglio il meglio anche per il mio gatto Ecco perché scelgo gli ingredienti semplici della nostra tradizione Con il nuovo Viscas Pranzetti Sapori di Casa In pratiche porzioni da 50 grammi Da il gusto sempre fresco Per offrirgli ancora più varietà Nuovo Viscas Pranzetti Sapori di Casa Su Premium tornano le stelle del grande calcio I riflettori si accendono sulla Champions League Juventus Milan De Udinese Iniziano la loro avventura Tutte le partite Dai preliminari Alla finale di Wembley 2013 Ti aspettano su Premium Dal 21 agosto Non perdere tempo Abbonati subito E assicurati tutto il grande calcio A 24 euro al mese Premium Tutto il calcio che conta Grazie ad Imea Silhouette Controllo il peso in modo naturale Le vampate di calore E l'irritabilità Imea Silhouette conosce il mio corpo E si vede Imea Silhouette in farmacia Se c'è gente C'è gusto Se c'è gusto C'è Equilibrium di Aya Con Equilibrium di Aya C'è tutto il gusto degli affettati E c'è un ridotto contenuto di grassi E se c'è Aya C'è gioia Per ritrovare il gusto delle cose vere Ci siamo messi in viaggio Abbiamo visto le mucche Che vivono in questo piccolo territorio E il loro latte diventa gran soresina Un gran capolavoro Grana Padano gran soresina La verità è qui L'alito cattivo è un problema comune Che è dovuto alla produzione Nella bocca di maleodoranti gas sul fuori Ora c'è un trattamento efficace CB12 Elimina i gas sul fuori E dona un alito sicuro per 12 ore CB12 Solo in farmacia La passione per la TV Non va mai in vacanza Vuoi divertirti con le sitcom di ieri e di oggi? Saperne di più sulle notizie più importanti Seguire le fiction di maggior successo Con Video Mediaset Puoi Quando vuoi Videomediaset.it La TV Quando vuoi tu Ho iniziato a usare Bio Oil tutti i giorni su una cicatrice E ora a meno che tu non sappia dove guardare Non riusciresti mai a vederla Ora lo uso su tutto il mio corpo La mia pelle è semplicemente splendida Bio Oil Rilassati e cerca di svuotare la mente Ciao Jake Ciao ragazzi Benvenuto nel tuo nuovo corpo Cerchi casa Nei nostri cantieri la troverai Parola di Roberto Carlino Ami il cinema? Oltre 800 film da vedere quando vuoi e dove vuoi Solo su Premium Play Questo programma è stato offerto da Immobile Dream Non vende sogni Ma solide realtà Grazie, grazie Si contrapporranno due veri e propri eserciti Una battaglia che affonda le sue radici nella storia dell'umanità No Vuoi venire a letto con me? Ma manco morto Madre natura Paolo Bonolis e Luca Laurenti La coppia più bella del mondo Conducono Ciao Darwin L'anello mancante Domani alle 21.20 Su Canale 5 I nuovi doccia schiuma Palmolive Ayurituel Sono ispirati ai rituali ayurvedici indiani Di armonia e benessere Perché questa non è solo una doccia È la tua oasi di benessere Nuovi Palmolive Ayurituel Trova la tua oasi di benessere Scopri su Facebook come puoi vincere un viaggio da sogno Col tempo ho preso un chilo dopo l'altro Poi ho detto basta Ora mi muovo di più, mangio meglio Ed ho scelto XLS Medical Liposinol cattura fino al 27% dei grassi ingeriti Carboblocker blocca fino al 66% dei carboidrati E da oggi Appetite Reducer controlla l'appetito e gli attacchi di fame XLS Medical, scegli tu come perdere peso Hai mai visto Winga TV? Winga TV compie un anno Un anno di roulette 8.000 ore di diretta Al Canale 63 200 spin ogni sera Un anno di vittorie Più di 20.000 giocatori Iscriviti e gioca su winga.it Con i croupie in diretta tutte le sere Al Canale 63 Entra in gioco anche tu con Winga TV Quando eri incinta di 5 mesi Ho iniziato a usare Bio Oil sulle smagliature Devo proprio dire che se l'avessi saputo prima L'avrei utilizzato da subito I risultati sono stati davvero sorprendenti Bio Oil Adoro che il mio cane sia sempre pieno di vita Per questo gli do Cesar ogni giorno Deliziosa carne cucinata al vapore Buone verdure e cereali Lui ne va pazzo E io so che gli fa bene Cesar Per amarlo come lui ti ama La passione per la tv Non va mai in vacanza Vuoi divertirti con le sitcom di ieri e di oggi? Saperne di più sulle notizie più importanti? Seguire le fiction di maggior successo? Con Video Mediaset Puoi Quando vuoi Video Mediaset.it La tv Quando vuoi tu Verruche? L'ha detto il medico? C'è Bartner È semplice Un'applicazione può risultare sufficiente Per congelare la verruca alla radice E addio verruca Bartner in farmacia La pelle come te sente il caldo La frenta E sente anche il tuo possibile disagio Il deodorante Infasil Neutro Tripla Protezione Sente quando ne hai bisogno E si attiva Grazie alle sue beta ciclodestrine Trasforma l'odore in fresca fragranza È approvato dai dermatologi ai Deco Infasil La forza della delicatezza Infasil si mette in ascolto Partecipando al concorso Puoi vincere e prenotare Una visita gratuita Ginecologica e dermatologica Durante il mese della protezione Infasil Allora Posso farlo come voglio io? Dammi la precisione di Snyder La regia di Pirlo La grinta di Boateng Voglio provarlo così Ottimo mister Solo con Premium Scegli il calcio che vuoi Pay per view Ricaricabile O abbonamento Per vedere tutta la serie A Delle squadre Premium Tutta la Champions E l'Europa League Dobbiamo creargli un degno versatio Premium Tutto il calcio che conta Prense di Snyder Scegli il calcio che vuoi Tutto il calcio che vuoi È un progetto che vuoi Il calcio che vuole Scegli il calcio che vuoi L'Europa League La scopo che vuoi È un progetto che vuoi Cari telespettatori del TG5, benvenuti a questa edizione della Notte. Usa parole forti il Premier Monti per definire l'evasione fiscale in Italia. Siamo in uno stato di guerra, dice Monti, contro l'evasione fiscale che produce un grosso danno al Paese. Il Premier parla in un'intervista al settimanale Tempi, nel quale accenna anche alle prossime elezioni. Il prossimo Presidente del Consiglio, dice Monti, uscirà dalle elezioni. E poi Monti si riferisce anche alle intercettazioni, a una riforma possibile della giustizia. E questo ovviamente stimolato dal caso che riguarda il Curinale. Ma ci spiega tutto nel prossimo servizio. Matteo Berti. Il Premier Monti torna sulla piaga dell'evasione fiscale. Siamo in uno stato di guerra, dice in un'intervista al settimanale Tempi. Ci sono italiani che sistematicamente non pagano le tasse. Questo, avverte, produce un grosso danno nella percezione del Paese all'estero. Insomma, per Monti ci vuole un'azione decisa. E di lotto all'evasione il Premier ne ha discusso con la Presidente della Confederazione Elvetica. I due leader hanno fatto il punto sul lavoro della Commissione Bilaterale per il recupero fiscale dei soldi italiani depositati nei forzieri svizzeri. Un accordo che potrebbe valere per il nostro Paese ben 40 miliardi di euro. In autunno dovrebbero arrivare le prime proposte concrete. Poi la politica. Sulla sua eventuale candidatura, Palazzo Chigi, il Premier risponde con parole nette. Mi rifiuto di pensare che un grande Paese democratico come l'Italia non sia in grado, attraverso libere elezioni, di scegliere una maggioranza di governo efficace e indirettamente un leader adeguato a guidarla. Quindi annuncia numerose novità nel campo della giustizia per combattere dalle risposte non solo all'emergenza carceraria, ma anche alla lentezza dei processi, che incide negativamente sulla crescita del nostro Paese per un punto percentuale di PIL. Tocca anche il delicato tema delle intercettazioni telefoniche. Definendo gravi quelle registrate dalla procura di Palermo che hanno coinvolto il capo dello Stato, spiega è evidente a tutti che si sono verificati e si verificano abusi, per cui, prosegue, è compito del governo prendere iniziative al riguardo. Definisce come una proposta intelligente gli aerobond bocciati dalla cancelliera Merkel e sulle scuole assicura che il governo non farà mancare il necessario sostegno economico a quelle private, cui riconosce un'essenziale funzione complementare rispetto a quelle pubbliche. L'appuntamento sul finanziamento dell'istruzione è rimandato alla legge di stabilità del prossimo autunno. E una ricerca sull'evasione fiscale in Europa in effetti conferma quanto detto da Monti. L'Italia è il Paese dove si evadono più le tasse, pensate, il doppio rispetto a Francia e Germania. Sentiamo Barbara Lidoni.